Ragazzi, è finita da poco, Juve-Inter 0-1, vittoria importantissima, vittoria bella perché sporca, abbiamo vinto come avrebbero vinto loro, con un calcio del rigore però netto, fallo su Dunfriss, colui che aveva fatto pareggiare con un rigore regalato al novantesimo all'andata, oggi se lo procura alla fine del primo tempo. Akan all'inizio sbaglia, su ribattuta segniamo, l'arbitro inizialmente ferma tutto convinto che c'è fallo, in realtà non solo non era fallo quindi sarebbe stato gol, ma fa ribattere il rigore perché prima che Akan tirasse era già entrato De Litte, tira Akan, ancora più angolato e fa 1-0. La Juve che parte alla grande, parte fortissima perché ha messo tutti e quattro gli attaccanti in campo, Dybala, Vlaovic, Quadrado e Morata, con tutto ciò teniamo botta, teniamo il campo, teniamo ai loro attacchi. Quando non ce la facciamo, Andanovic ci ha fatto un paio di fesserie, ma ce la siamo vista di lusso, poi ha fatto un paratone, un paratone su Zaccaria, mandando il pallone sul palo, partita giusta, così in questa sembrava l'Inter di Conte. Aspettiamo, aspettiamo e poi colpiamo. Abbiamo fallito in un paio di occasioni che potevamo fare molto meglio, ma era il risultato che volevo. Abbiamo espugnato il Cesso Stadium dopo dieci anni, andiamo di nuovo a più quattro sui gobbi, siamo ancora in corsa scudetto e abbiamo una partita in meno e non solo, ma io sono sicuro che vincere a Torino darà un'energia mentale a questi giocatori che è praticamente lo sliding doors inverso di quello che è successo al derby. Se lì quella sconfitta ci aveva un po' demoralizzato, questa ci deve gasare. Faccio capire che noi siamo l'Inter, che noi siamo più forti degli altri, che noi possiamo battere chiunque. Abbiamo battuto il Liverpool, abbiamo battuto la Juve in casa loro, abbiamo perso quel derby in quella maniera, ma nemmeno loro sanno come l'hanno vinto. Ci siamo, siamo vivi. Sono orgoglioso di questi ragazzi, perché anche se non hanno fatto un partitone, hanno dimostrato di fare di tutto per portare a casa la vittoria. Hanno fatto di tutto per cercare, per vincere la partita. Perisic è stato fenomenale in copertura, faceva di tutto per buttare la palla, per ripartire, per contrastare. Grandi tutti, grande Gagliardini, grande Vidalle, sono entrati concentrati. L'obiettivo era uno, vincere! E non importava come, l'importante era vincere. Sti gobbi maledetti erano sempre a terra, sempre a terra, cercavano il rigore. Ogni occasione, ogni cross ce n'era uno a terra che piangeva per il rigore. Siete buffoni, pure quando perdete siete buffoni. E poi io voglio capire come mai Allegri a fine primo tempo non sia stato espulso. Un allenatore che si toglie la giacca, che grida in faccia al quarto uomo, non gli hanno fatto niente. Ragazzi, sono a scenata del genere. La faceva Inzaghi, lo buttavano fuori. Se lo faceva Inzaghi, lo buttavano fuori. Lo fa Allegri e non succede nulla. E l'importante è vincere in casa loro. 1-0, 1-0, con un calcio di rigore in faccia e i gobbi bastardi. Ragazzi, sono troppo felice, non riesco ad analizzare oltre la partita, quindi se state godendo mettete mi piace, commentate, condividete. Ci vediamo tra poco su Inter for Passion. Io vi saluto nel pene e nel male. Amala! Forza Inter!